Sono tre i nuovi progetti di servizio civile approvati e finanziati al Comune di Eboli. Nel 2019, per un anno, 36 giovani ebolitani saranno inseriti nelle attività comunali, seguendo un percorso di formazione professionale e crescita individuale. Un piano che si pone in continuità con quello attualmente in corso, che vede 22 giovani, sempre nell'ambito del servizio civile, impiegati fino a gennaio 2019 presso il Comune. Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello. Manteniamo massima attenzione sui nostri giovani e sulle possibilità che abbiano percorsi formativi reali.